L'Inter supera 1-0 l'Atalanta, nel quarto di gara secca a San Siro e va in semifinale con la vincente di Juve Lazio. Subito buon ritmo. Barella prova i riflessi di Musso. Chaglanoglu, dalla distanza prima va di poco alto, poi al quarantesimo c'entra in pieno il palo. Sponda di Lukaku. Gomez non ne fa buon uso. Sciuppa di testa, Zapata, dimenticato dalla difesa. Erroraccio anche per Michael, che manda alle stelle una respinta. Difettosa di Onana. Al cinquantasettesimo Darmiani finalizza in diagonale un'azione. Paziente dell'Inter, esiga il vantaggio. Ci prova Boga, l'Alato e Lukman, para Onana. L'Atalanta non trova il pari. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, campanella, notifica e un commento. Ciao!